Tempo, competenza e gioco di squadra. Su questi tre aspetti fondamentali si basa il lavoro della macchina amministrativa di Roseto degli Abruzzi e del nuovo sindaco Mario Nugnes, il primo cittadino punta molto sul gioco di squadra e perciò, dopo aver assegnato deleghe agli assessori, questa mattina ha provveduto a conferire incarichi anche ai consiglieri di maggioranza. Oggi si completa ma soprattutto parte in maniera più decisa il nostro volere essere squadra. Oggi ufficialmente i miei consiglieri di maggioranza prendono in carico delle deleghe importanti, delle deleghe amministrative, delle deleghe che saranno appunto a supporto del sindaco stesso, che comunque rimane il delegato secondo quello che il Tuel in qualche modo impone, ma hanno una loro autonomia, se non il potere di firma che non gli viene attribuito, ma il potere di essere operativi e di poter risolvere i problemi. Roseto è una città, la seconda città della provincia di Teramo, la prima della costa teramana e baricentrica, ha una grande potenzialità. Io credo che negli anni il non lavoro adeguato di chi invece ha ricoperto dei ruoli ha fatto perdere delle quote, ha fatto perdere qualche modo delle potenzialità. Tra le deleghe torna a distanza di anni quella dei consigli di quartiere assegnato a Vincenzo Addazzi di Casa Civica, obiettivo fare entrare in municipio le esigenze delle contrade. Il problema delle frazioni a Roseto negli ultimi anni c'è molto stato. Mi sono sempre adoperato per le frazioni, infatti è stato diciamo lo slogan della mia campagna elettorale, perché ecco mi sono sempre dato da fare con la squadra di Mario Nugnes e quindi diciamo che ecco è una delega che io mi aspettavo e speriamo di andare avanti.